Emanuele Cocco, buongiorno. Bentrovati, bentrovati a tutti e a tutte. E benvenuto davvero qui nel posto delle parole per condividere il suo libro pubblicato dalla casa editrice fiorentina Olschi, Una trascinante natura, illuminismo, scienza e giustizia sociale in Alessandro Malaspina. Ora, sono degli argomenti che sicuramente non abbiamo la pretesa di esaurirli nel corso di questa breve conversazione, ma qui, come sempre, diamo delle suggestioni. Emanuele Cocco è professore associato di storia della filosofia all'Università di Catania e membro dell'Alta Scuola degli Studi di Scienze Sociali di Parigi. E' ancora occupato in questa scuola, Emanuele Cocco? Sì, sì, questa è una collaborazione permanente, ormai decennale, che mantengo con una di queste grandi ecole, diciamo, francesi, con l'Ecole Polytechnique, appunto, è una di quelle ecole normale. Questa è un'ispirazione, tra l'altro, molto vicina alle persone, perché fu pensata per dare dei corsi aperti a tutti, non soltanto dei corsi universitari, ma a chiunque, appunto, poteva e può tutt'oggi frequentare i seminari che vengono svolti. Io ho avuto la fortuna di entrare in relazione con questo istituto, e ancora oggi abbiamo collaborazione, insomma, vive. Ed è una grande scuola di scienza politica e sociale, quindi si guarda sempre con molta attenzione ai punti interessanti, dove c'è uno sviluppo, un confronto culturale sicuramente di alto livello. Emanuele Cocco, tra l'altro, lei, oltre a essere impegnato nella professione universitaria, è scrittore di diversi saggi e anche di teatro. Come mai questa fascinazione e questo percorso, che tra l'altro le ha dato anche grandi soddisfazioni? Beh, il Malaspina di cui parliamo oggi, durante i suoi studi, aveva modo di mettere in scena, assieme ai suoi compagni, appunto, di studi, le opere teatrali di Voltaire. E se pensiamo a Giordano Bruno, e non soltanto a loro, diciamo il legame tra la riflessione e la messa in scena di questa riflessione, è un territorio euristicamente molto ricco, dal punto di vista dell'indagine conoscitiva, perché finché la teoria è teoria, rimane appunto il saggio, il trattato, ha tutto il merito che queste opere ovviamente si meritano. Nel momento in cui si cerca di dar loro una forma in cui, per l'appunto, il pensiero diventa un personaggio, diventa un racconto, diventa un incontro, un dialogo, anche con chi ci ascolta, con chi interagisce con noi, nasce una relazione forse anche più diretta, che io ho sempre, diciamo, amato, e che quindi, insomma, nei miei piccoli sforzi cerco di tanto in tanto di praticare. E adesso andiamo ad affrontare la questione Malaspina. La questione Malaspina che ci porta a indagare sulla figura di quest'uomo, sul suo pensiero. E quest'uomo, tra l'altro, che, come si legge già nell'introduzione, ha avuto un momento di fiorente produttività una ventina di anni or sono, però poi c'è stato quella d'amnazio memorie, e come mai Emanuele Coco? Ma, diciamo, tutto ciò è accaduto prevalentemente, perché Dario Manfredi, che mi preme ricordare, anche se io non ho mai avuto modo di incontrarlo, e con lui alcuni altri studiosi, insomma, lui è venuto meno, gli altri, diciamo, hanno fatto il loro corso, e quindi era un interesse mosso soprattutto dall'entusiasmo di queste persone. Però è una dimenticanza a cui, appunto, io spero di aver dato un là affinché vi disponga rimedio, perché è un navigatore italiano che potremmo, con le dovute differenze, secoli di distanza, formazione completamente diversa, un immaginario collettivo, un mondo culturale completamente diverso, ma potremmo accostarlo a Colombo. Colombo, ovviamente, se ne è parlato anche nei mesi passati, diciamo, recentemente, per via del colonialismo, che tra i tanti meriti di quest'uomo, però, è poi presente, quindi quasi a creare una macchia. E in un certo senso, senza entrare in quella diatriba, va detto che il Malaspina è un esempio del tutto diverso, ed è attualissimo, proprio per il suo aver compiuto un viaggio che trascende completamente qualunque forma di, appunto, colonialismo, qualunque forma soverchiante, di prepotenza nei confronti dell'altro e nei confronti della natura, e ha un intento diametralmente opposto, avendo compiuto una missione, un'impresa, non meno difficile di quella del suo illustre predecessore. Quindi, lo conosciamo tanto bene Colombo, al Malaspina un po' d'attenzione, ecco, la merita e ci fa bene, perché è un esempio che ancora oggi possiamo tenere vivo. Eh sì, possiamo tenere vivo, grazie anche al suo saggio, ma possiamo tenere vivo se conosciamo questa figura, entrando dentro la sua storicità, dentro il suo pensiero filosofico, no? E non solo, lei ci ha già anticipato alcune cose rispetto alla sua figura, ed è una figura veramente molto plurale, nel corso di questo saggio lo si evince pagina dopo pagina, ed è necessario incontrare questa persona per capire anche un po' quello che ci può dare e ci può dire la scienza, anche l'illuminismo, anche se la parola illuminismo, nel caso di Andrea Malaspina, va collocata in una sede appropriata. Cosa ne pensa Emanuele Cocco? Sì, infatti assolutamente, Alessandro diciamo che si ritrova, lui è toscano di origine, poi si ritrova a passare anche qualche anno a Palermo, io che sono un siciliano che ha vissuto per lungo tempo in Toscana, ho trovato la cosa ovviamente divertente anche su Toscana. C'era già un destino, vero? C'era un destino, ma lì il dato è che in effetti lui aggrega elementi diversi e l'illuminismo sicuramente è un illuminismo che non deve spaventare coloro le quali non hanno dimestichezza con i temi filosofici, l'illuminismo ovviamente è qualcosa che comunque tutti in qualche modo conosciamo, abbiamo avuto modo di leggere, ma soprattutto in questo caso è un illuminismo particolare. Perché è un illuminismo particolare? Perché normalmente noi prendiamo a misura i grandi illuministi, tutta la tradizione francese, tutta la tradizione inglese, l'illuminismo in realtà poi come gli studiosi, gli specialisti hanno avuto modo di evidenziare e un'esperienza culturale molto più ricca di quanto a volte non si sia immaginato e pensato. Comunque lui si trova trasportato a Palermo, dove passa qualche anno dallo zio che è vice re e poi va a studiare presso un istituto religioso. Lui va a studiare da questi padri somaschi, questo collegio clementino a Roma che era appunto all'epoca molto frequentato e famoso. In verità la sua carriera sarebbe dovuta essere quella della carriera della Chiesa, come desiderava il padre. Ecclesiastica, poi lui si oppone a questo destino che era un destino dettato semplicemente da quelle che erano le regole in famiglia, lui aveva un fratello più grande, insomma quella distribuzione che si faceva classicamente tra il primo genito, il secondo e via dicendo. Lui si oppone preso da questa chiamata appunto per la navigazione, che sarà appunto all'inizio una carriera militare e poi assume i toni di questa esplorazione anche scientifica e sociale. E tutta questa eterogeneità apparteneva sicuramente alla sua natura, al personaggio, a quello che aveva sentito, ma appunto lui si ritrova a studiare e presso questo istituto religioso, però non è un istituto religioso dove si formano per utilizzare il loro motto i ragazzi, ma è un istituto dove si informano, i ragazzi devono essere messi al corrente, parliamo al maschile perché a quell'epoca ovviamente era frequentato soltanto da uomini, devono essere messi al corrente e devono essere messi al corrente delle idee più alla vaguaglia, delle scoperte, degli aspetti scientifici, ma anche degli aspetti umanistici, considerati di altissima importanza, oggi messi un po' da parte nell'inutile, per citare il saggio del recentemente scomparso carissimo amico Nuccio Ordine, e quindi lui ha contatto con questa tradizione di studi illuministici a modo di creare, di dar vita e di nutrire alcuni valori, ma ci tengo a sottolineare, senza nessun campanilismo banale, ma giusto per suscitare l'interesse appunto di un esploratore italiano che possa essere messo, come dicevo, in paragone a Colombo e con valori diversi, non è solo un illuminismo d'oltrarpe, lui si ispira molto anche alla tradizione partenopea, la scuola di Vico e in particolare a Filangeri, di cui non solo legge, ma quando Filangeri nel 1788 muore, è lo stesso anno in cui appunto Alessandro Malaspina, che ha già fatto un apprendistato, una vale importante passando per Malta, essendo poi, avendo avuto modo di servire appunto la corona spagnola, lui si trova in Spagna e in quello stesso anno mette a punto questo progetto di esplorazione, di viaggio, con cui raggiungerà ovviamente l'altra parte del mondo, starà fuori cinque anni e ritornerà sano e salvo lui e anche le persone che con lui erano partite, che allora non era per nulla una cosa scontata. Io vorrei riprendere il tema dell'illuminismo a Emanuele Cocco, tenendo conto di un capitolo importante, legato ovviamente a Malaspina, in quanto il suo è soprattutto un anti-illuminismo e qui voglio entrare in questo dettaglio che è molto importante perché ci dà un'apertura culturale fortemente innovativa nei confronti di Malaspina. Sì, diciamo che l'illuminismo di Malaspina lo possiamo declinare in due accezioni, proprio per questo prima facevo un richiamo a un illuminismo che a volte è stato visto in maniera un po' troppo omogenea, semplice e semplicistica, mentre si tratta appunto di una ben più ricca compagine culturale della storia dell'idea dell'Occidente. Malaspina ha due portanti fondamentali. Una è quella scientifica, e vedremo, diciamo quella che potremmo identificare Newton e magari se c'è tempo tra qualche minuto vi dico perché. L'altra, come dicevo, è quella più squisitamente sociale, appunto che egli prende soprattutto da Filangeri e che è legata al diritto alla felicità, che appunto quel pensiero e quei filosofi e giuristi della tradizione napoletana, e non solo ovviamente, avevano messo in chiaro. Lui si rifà a questa idea di bontà assoluta, di queste leggi che nella loro armonia devono essere in grado, nel loro essere naturali. Poi oggi noi, con tutto il dibattito evoluzionistico e biologico, potremmo anche però mettere delle eccezioni. Però lasciamo perdere ora questi dettagli. Per il pensiero dell'epoca, l'idea è che ci sono delle leggi naturali dove l'appello al cuore, l'appello alla bontà, l'appello alla felicità, il diritto alla felicità che tutti devono avere, non può essere messo da parte di fronte a una regola, a una legge che vorrebbe, sulla base di un costrutto teorico, sulla base di una convenzione politico-sociale, non so, far punire la persona che ha dovuto rubare per necessità, oppure costringere figlio e madre. Lui porta proprio degli esempi, richiamandosi a parole abbastanza acerbe anche per Platone. E quindi nel caso in cui Montesquieta, per esempio, riporta la legge di questo re di Burgogna, il quale ordinava che se la moglie o il figlio di colui che aveva commesso un qualche crimine non avessero rivelato il delitto, fossero ricondotti, ridotti in schiavitù. Per cui, appunto, l'appello è quello a un senso naturale, ripeto, oggi su questo potremmo aggiungere altre pagine che problematizzano la cosa, perché poi il richiamo alla natura oggi ha altri rischi, non legati agli istinti, alla genetica, al determinismo genetico, tutta un'altra pagina, cose di cui mi sono occupato, ma qui lo spazio in questo momento non l'abbiamo. E quindi allora invece era un grande elemento. L'altra cosa è che lui fa questa riflessione sulle colonie spagnole, fondamentalmente la sua idea è questa, si rende conto che i coloni spagnoli sono maltrattati e immagina, non sulla base di un'idea di uguaglianza, cioè lui per l'epoca in cui vive non può pensare che lui e l'Indios siano persone esattamente uguali. Lui ancora immagina che ci sia una diversità dovuta all'evoluazione culturale che appunto i bianchi, tra virgolette, hanno, ma malgrado questa differenza, lui dice che questa differenza non deve essere motivo per poter perpetuare angherie nei confronti degli altri. Anche se siamo diversi, tutti, tutte abbiamo diritto a una felicità, a un viver bene. E quindi immagina uno scenario diverso dei rapporti tra la Spagna, tra l'Occidente e queste colonie. Fatto di autonomia dei coloni e di scambi, scambi culturali, scambi economici, chiaramente commerciali. Quindi la sua idea è che queste persone devono essere lasciate al loro modo di vivere, devono avere la loro autonomia, sono assolutamente in grado, e non siamo noi che possiamo dire loro come devono vivere, anzi, noi li costringiamo a cose che appartengono al nostro vissuto e che lì sono del tutto innaturali, per l'appunto, sono del tutto, e quindi sono motivo di sofferenza, sono motivo appunto di vite tristi, e invece noi dobbiamo lasciare questa autonomia e creare uno scambio. Però questa idea, e qui torna di nuovo l'illuminismo, lui dice, io non è che una mia opinione è bella comunico tale e quale, vabbè, ognuno ha le sue, ebbene le difenda. No, dice, io utilizzo un metodo newtoniano. Il metodo newtoniano è devo raccogliere dei dati empirici per poter dire che le cose stanno in un certo modo. Non mi devo prima costruire un sistema e quindi era stato un po' il modo precedente, che avrebbe avuto la meglio nel corso del secente. Io devo andare a cercare i dati prima di poter fare delle affermazioni. Fino a quel momento sono soltanto dati ipotetici, aspetti ipotetici. Ed è per questo che lui vuole fare il viaggio, per vedere se questa sua idea sociale e politica sia difendibile o meno. Sì, e qui il rapporto con Newton, il rapporto con i soloni del pensiero, per esempio, Cartesi o Spinoza, com'erano soprattutto per quanto riguarda Cartesi o Spinoza? la questione per esempio della distinzione tra spazio e materia, su cui Alessandro Malaspina ha elucubrato parecchio. Allora, noi diciamo, e parlo naturale perché io mi sono avvalso di un abile latinista, abbiamo anche tradotto, ed è la prima traduzione mondiale dal latino, questo lavoro che Malaspina, per l'appunto, da giovane, potremmo chiamarla una specie di tesi... Tesi di fisica generale tradotta da Alessio Ruta. Esatto, esatto, che il bravo Alessio ha tradotto, che poi abbiamo avuto modo di rivedere insieme, anche per ciò che riguarda tutto l'apparato di note che ho preparato io. Ma, dicevo, su quel lavoro lui appunto si dedica molto alla questione e anche alla distanza, appunto, che una certa visione precedente, appunto anche cartesiana, che poco si basava sulla misura, diciamo. Cartesio certo non era un empirista, non lo possiamo definire un empirista, e allora questa nuova corrente, nuova tra virgolette, perché nuova non è, ma comunque che in quel momento faceva parte appunto degli entusiasmi, accendeva gli entusiasmi di Maraspina, cioè appunto la misura, la possibilità di dare spazio all'osservazione empirica era fondamentale, anche se poi Newton sappiamo che insomma anche su questo ci sarebbero dei distingui da fare. Quindi sostanzialmente era, in queste sue dissertazioni, noi vediamo un rapporto abbastanza conflittuale, diciamo, e anche il coraggio appunto di poter esprimere opinioni diverse, anche se sempre rispettose, no? Questa era un po' la tradizione appunto di studi che lui aveva seguito, questo essere informati e quindi non imporre un sistema, ma discutere delle tesi e cercare la via attraverso cui difendere un'opinione o un'altra. E infatti nel corso di queste sue navigazioni, Malaspina farà tanti esperimenti anche sulla questione del magnetismo, della forma della Terra, tante questioni, tutte quelle astronomiche, ne riferisce, dialoga tra l'altro con studiosi importanti dell'epoca, scrivendo le lettere, mentre lì tutto questo prezioso materiale, questa monumentale opera, non viene pubblicata, perché quello che ancora non abbiamo detto è che questo sogno malaspiniano di giustizia sociale si scontra, naufraga, ecco, per cinque anni non aveva mai naufragato, Colombo una delle due caravelle l'aveva persa, lui non perde niente, scusatemi se faccio un po' il tifo per questo secondo navigatore italiano, però torna in patria e lì si scontra con, come dire, con la realtà, con la durezza della realpolitik, qualcosa che ancora oggi ogni sognatore, ogni sognatrice sperimenta anche nella nostra quotidianità. Qual è, Emanuele Cocco, la modernità? Che cosa risuona oggi in questo nostro mondo così complesso il pensiero di Alessandro Malaspina? Allora, l'elemento chiave, secondo me, da quello che vedo, io ne individuo due. Uno è quello che anche Colombo aveva, il sogno. Queste sono persone che mettono in pratica un sogno incredibile nel caso di Colombo. Colombo sta anni prima di essere autorizzato a compiere la sua missione e, tra l'altro, lui non viene autorizzato non soltanto perché è trattato male o perché è sfortunato, ma perché chi lo giudica è ben consapevole che questi calcoli di Colombo sono del tutto sbagliati. Colombo parte con calcoli del tutto erronei. Si è utilizzato un'unità di miglio che non è quella corretta, ha immaginato un globo che ha una dimensione ben diversa da quella reale. Quindi, quando lui si ritrova di fronte alla Commissione, la Commissione dice guardi, noi abbiamo esaminato i suoi calcoli, lei è un incompetente e quindi non le affidiamo la vita delle persone e gli aspetti finanziari, oltre che umani, che tutto ciò comporterà. Però lui ha un sogno, lo porta avanti e alla fine fa questo viaggio che è appunto un viaggio su una rotta sbagliata che lo porterà alle grandi scoperte che sappiamo. Quindi, un sogno, ma non è che un sogno che si muove verso tra virgolette una verità, è un sogno di un dilettante, lasciatemi passare questo termine, che si poggia su calcoli sbagliati e che tuttavia poi apre scenari che non erano sbagliati. Quindi, il bisogno del sogno, il bisogno di uno sperare in una realtà diversa secondo me siamo sempre più in un mondo in cui è facile essere a contatto con ciò che non è reale, non voglio più fare ovviamente il bacchettone, tra virgolette, però siamo in contatto con un mondo che ci propone tanta virtualità, ma che poi ci rende un po' difficile credere ai nostri sogni. Quindi, questo è un primo elemento, persone che compiono delle cose impossibili e che in qualche modo riescono a compierle. Le porte sono aperte, i mari sono percorribili. L'altro elemento è la relazione con l'altro, l'altra, dove l'altro e l'altra non sono solo queste popolazioni, ma è anche la natura. Colombo, va detto, tristemente, quando arriva nei luoghi poi si scopre le Bahamas, quando arriva alle Bahamas non è l'isola delle Bahamas non è consapevole, il suo intento è un intento di arricchimento. Lui vuole andare lì, vuole trovare l'oro, vuole diventare ricco, passerà tutta la sua vita a sostenere che è arrivato in un certo posto perché se così non fosse perderebbe tutti i benefici che appunto l'accordo che lui aveva con la corona. Ma la Fina ha un'idea del tutto diversa, va lì per entrare in relazione con l'altro, quindi con la natura e con gli altri popoli. Il problema ecologico che noi oggi sentiamo fortemente non è soltanto un problema del dobbiamo non inquinare, dobbiamo fare la raccolta differenziata, ma è un problema prevalentemente come dire, appunto io dico filosofico, dove con filosofico voglio dire che la questione ecologica rispecchia un disallineamento che noi abbiamo nella società, un'opposizione tra un'oligartia chiaramente non omogenea, non organizzata, non uniforme, ma che comunque impone delle cose e tutti noi cittadini e cittadine che in qualche modo in qualche misura le subiamo, quando si dice l'uomo sta distruggendo il mondo, l'uomo sarà distruggendo il mondo ma mica tutti nello stesso modo, mica tutti con le stesse proporzioni, quindi tutti ci dobbiamo impegnare ma dobbiamo anche essere consapevoli che la questione ecologica è riflesso del come noi stiamo vivendo dentro la nostra società e nel rapporto ovviamente con le società che vivono in condizioni più naturali, penso tutta la questione degli aborigini, penso tutta la questione delle popolazioni che si trovano appunto messe al confine perché le ruspe arrivano, perché le deforestazioni servono, perché gli OGM, tutto quello che la nuova schiavitù è fatta di questa finta scienza che impone modi con cui sarebbe si avrebbe una coltivazione migliore, si avrebbero rese diverse, cosa che poi non è vera, l'OGM ha dimostrato tutto questo, non abbiamo risolto il problema della fama nel mondo attraverso gli OGM, abbiamo creato catene di produzione agricola differenti che hanno creato grandi sacche di incoverimento a favore dei gruppi industriali che spadroneggiano. I nostri ascoltatori ascoltando la passione e l'eloquenza di Emanuele Cocco avranno anche compreso il significato del titolo di questo saggio, una trascinante natura perché non può che essere così come ci ha raccontato Emanuele Cocco, illuminismo, scienze e giustizia sociale in Alessandro Malaspina e il libro pubblicato da Olschi, ma che bella copertina ha il suo saggio Emanuele Cocco. Olschi è un editore preziosissimo, lo dico perché lo è in tutti gli aspetti anche appunto in questa copertina che hanno pensato loro e che è bellissima. Il ritratto di Alessandro Malaspina con un'elaborazione grafica veramente molto molto particolare ma prima di salutarci Emanuele Cocco invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma in questo periodo sto leggendo la Jasmine Reza, questa bella figura me l'ha regalato la mia compagna e io mi diverso molto con la Reza che ha questa lei è l'autrice del famosissimo che ora non mi viene di cui poi c'è stato Il Dio del Massacro Babilonia io ricordo Il Dio del Massacro che è divertitissimo perché dalla prima scena uno dice vabbè non durerà la durata di una pièce teatrale poi nella trosprezione cinematografica e invece l'interesse e la ricchezza di questi personaggi viene viene sempre fuori. Poi insieme alle altre mille cose che mi ripropongo sempre di leggere che poi diciamo tra le tante restano un po' così da parte E a volte i libri restano da parte ma sono lì in attesa in attesa ogni tanto ogni tanto ci chiamano e ci chiamano a essere letti e questo mi sembra una cosa anche molto bella un po' soprannaturale un po' forse esagerata la cosa che dico ma io penso che così possa essere che ogni tanto i libri messi in biblioteca uno vicino all'altro abbiano questa possibilità di indicarci la lettura Sì tra l'altro sono veramente una compagnia bellissima importantissima io ce li ho qui sul tavolo c'ho uno Jung Parla degli Adelphi che mi fa tantissima compagnia gli aforismi di Bata Young Ali insomma ognuno di loro ha un allora se lei ha un libro di aforismi prende il libro ne apre uno a caso e ci salutiamo con un aforismo Emanuele Cocco un aforismo l'aforismo è un aforismo che prendo da un altro dei libri che ho qui presente che è appunto il caustico Schopenhauer allora siamo sicuri che è veramente tagliente la parola che citando che citando Byron diceva più conosco gli uomini e più mi rendo conto di quanto mi sono estraneo e più mi stanno antipatici più non li sopporto se fosse la stessa cosa per le donne tutto sarebbe risolto e invece per fortuna come dire la relazione anche attraverso ora questa è una battuta ci mancherebbe non ne facciamo mica una questione di attrazione tra generi ma ecco il rapporto l'inferno e gli altri dobbiamo sempre cercare di trovare un compromesso tra questo desiderio di fuga e invece la scommessa di ritrovarci con gli altri nella speranza anche di un mondo migliore Sì la speranza di un mondo migliore e della felicità e qui chiudiamo con un'idea molto fondante come lei ci ha raccontato del pensiero di Alessandro Malaspina grazie davvero Emanuele Cocco e buona giornata grazie a voi è stato un piacere a presto